Coronavirus in Puglia, la curva epidemiologica continua a registrare nuovi contagi ma intanto crescono anche i guariti. Sono arrivati i vaccini di Pfizer e anche di Moderna e su un probabile passaggio della Puglia in zona gialla il presidente Emiliano ribadisce la sua contrarietà. La curva epidemiologica in Puglia è un divaga perché in base ai dati relativi alla scorsa settimana il numero dei contagi è salito anche se di poco. Lo conferma l'andamento del rapporto tra i tamponi processati e quelli con esito positivo. In media ci sono stati negli ultimi sette giorni 970 casi di contagio. Rassicura però anche l'aumento dei guariti passati da 7.852 della terza settimana di gennaio a 8.931 dell'ultima. Ieri però la Puglia è stata tra le regioni italiane con un numero a doppia cifra su nuovi ingressi nelle terapie intensive perché sono stati 13 nuovi ricoverati che hanno fatto salire a 171 il numero complessivo dei degenti covid nei reparti intensivi regionali. La percentuale di posti letto di terapia intensiva occupati è del 36%, 6 punti più alta rispetto alla soglia critica stabilita dal Ministero della Salute e di 10 rispetto alla media nazionale del 26%. Sul fronte vaccinale sono state superate le 108.000 somministrazioni. E sono state consegnate altre dosi di vaccini Pfizer e per la prima volta anche di Moderna. Entro oggi le dosi saranno distribuite direttamente alle 11 farmacie ospedaliere regionali mentre i 4.300 vaccini Moderna andranno direttamente alle ASL. I numeri che raccontano l'epidemia in Puglia potrebbero decretare un cambio di colore da lunedì prossimo con un passaggio cromatico dall'arancio al giallo. Un cambio che non piace al governatore Michele Emiliano convinto che la zona gialla lascia psicologicamente intendere che la tensione si sia abbassata. Non è così, dice, perché abbiamo ancora tanti contagi. Il regime della zona gialla in questo momento è sbagliato e pericoloso, ha ribadito Emiliano, ricordando che tutta Italia sarebbe dovuta rimanere in arancione perché il rischio è che la variante inglese che sta per arrivare acceleri di nuovo e provochi assieme alla riapertura delle scuole una terza ondata molto grave.